Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui a portarvi un nuovo squad builder come avevo preannunciato. Vi farò questi squad builder con i Silver Messi, Silver Ronaldo, Silver Gesù Cristo, eccetera eccetera, anche bronzo ovviamente. Oggi vi porto il Silver Cristiano Ronaldo che in realtà non è, diciamo, non somiglia a Ronaldo per, che ne so, nazionalità, stellabilità, piede debole, ma come stile di gioco e soprattutto come rendimento in game, o meglio come è decisivo quel giocatore, ma comunque ne parliamo dopo quando ci arriveremo. Partiamo subito dalla squadra che è argento completamente e in porta troviamo Pionnet. Non compratelo perché fa schifo, nel senso, io vabbè l'ho tenuto perché non avevo voglia di cambiarlo sinceramente. Però dalle statistiche sembrava buono, invece sembra che abbia tipo 11 di piazzamento, che ne so, tipo meno 14 di riflessi. Davvero un portiere che prende un sacco di gol per colpa sua, perché non sa proprio parare, non sa spiazzarsi, in mezzo alla porta è sempre storto. Quindi comprate qualsiasi altro giocatore, qualsiasi altro portiere francese, ma metteteci anche un Joris che ve ne frega, perché lui veramente non mi è piaciuto. Poi terzino destro ho utilizzato Nathan Klein, Nathaniel Klein, che è sempre un ottimo terzino, veloce, forte nei recuperi, ma comunque generalmente è forte in difesa, un buon dribbling, buon fisico. Peccato che non abbia un passaggio estremamente alto, però comunque sia un ottimo giocatore. Difesa troviamo, allora, a destra ho utilizzato Kurt Zuma, che è un ottimo giocatore, sa difendere anche molto bene, sa anche colpire molto bene di testa, ed è anche discretamente veloce. Quindi tutto sommato è un ottimo giocatore. E invece il suo compagno di reparto mi aspettavo qualcosa di più da Diakite. Mi aspettavo qualcosa di più perché ha delle statistiche veramente molto belle, con una discreta velocità, ma soprattutto valori di difesa e di fisico molto molto alti, e un work rate giusto per un, ottimo per un difensore. Peccato che non mi sia piaciuto tantissimo, nel senso, un giocatore secondo me molto macchinoso, che nei contrasti... Diciamo, è sempre un po' in ritardo nei contrasti... Non lo so, non mi ha fatto impazzire. Dalle statistiche è buono, però, boh, secondo me manca qualcosa. Poi, a sinistra, come terzino, ho utilizzato Orbana, esclusivamente per l'intesa. Dopo vediamo perché. Comunque sia un buon terzino, a dire la verità. Se fosse più veloce, ovviamente, sarebbe decisamente meglio. Però comunque sia delle buone statistiche di difesa di fisico. Poi, centro campo, troviamo sulla destra Emre Can, che a me è sempre piaciuto come giocatore, perché ha una discreta velocità, ha 4 stelle abilità, ha qualità, un ottimo dribbling, anche un discreto tiro. Non il massimo, però comunque sia un discreto tiro. Il prezzo è un po' vecchio, quindi non so adesso quanto sta. Comunque la squadra si aggira ai 50, 55, massimo 60.000 crediti. Centralmente troviamo Pribb, della Nover, che mi è piaciuto tanto utilizzarlo. È veramente un uomo assist con i controcazzi. Veloce, buon tiro, buon dribbling, ottimo passaggio. Infatti, 3 assist in ciclo partito per un centrocampista centrale, che poi si è piazzato praticamente davanti alla difesa e che costa così poco. È ottimo, è un giocatore con qualità e soprattutto non è neanche malissimo in difesa, anche se sembra, diciamo, quel 63 sembra un po' di più. Sulla sinistra troviamo Zucculini, ecco perché serviva l'intesa di Orban, che fa doppia e tripla intesa. Zucculini è un gran, gran, gran giocatore, che ha velocità, tiro, discreto passaggio, potrebbe avere qualcosa di più. Buon dribbling, buono in difesa e un fisico, vabbè, migliorabile. Comunque sia, è un ottimo giocatore, anche un discreto tiro dalla distanza. Poi, ATD, Byster, che mi è piaciuto, ha fatto 5 gol in 5 partite e 2 assist, quindi tanta roba, poi lì c'è in Super Byster. La prima partita non ha giocato benissimo, poi la seconda partita mi ha fatto una tripletta, perché ho capito come utilizzarlo al meglio. Ha un tiro veramente micidiale e mi ricorda abbastanza Bale come giocatore, quindi potrebbe trattarsi di una sorta di Silver Bale. Poi, come attaccante, io ho utilizzato Kadlec, o Kadlec, non so come si legga. Comunque sia, è un buon giocatore, non mi ha fatto gol, io l'ho utilizzato solo in 2 partite, perché in realtà avevo inizio, adesso vi faccio subito vedere, con chi? Con Mlapa, però il problema di Mlapa, che comunque mi ha fatto un assist e un gol in 3 partite, è che sbagliava un sacco di gol davanti alla porta. Aveva una finalizzazione bassina, e quindi non riuscivo a sfruttare al meglio le occasioni e le azioni che creavo. Comunque sia, ha delle ottime statistiche come velocità e fisico. Peccato che ha work rate normale, normale. Comunque, Kadlec è un buon giocatore, se l'avessi utilizzato di più sicuramente mi avrebbe fatto più gol e più assist. Però comunque sia, è un buon giocatore, quello che mi serviva, velocità, un buon tiro, ottima finalizzazione e work rate quello lì, diciamo. E infine andiamo a vedere il nostro silver Cristiano Ronaldo, che si tratta, ragazzi, di Esbain, la leggenda. È un giocatore veramente incredibile, incredibile. Ve lo dico proprio con il cuore, provatelo, perché ha come Ronaldo una gran velocità e come Ronaldo ha un ottimo tiro. Poi per il resto non ha nient'altro di Ronaldo, né il work rate, né il fisico esagerato, né il passaggio giusto, né l'altezza, per dire. Ovviamente neanche il costo. Però, in campo si sente che questo è un fenomeno. Ha un tiro che è micidiale. Dalla distanza fa dei tiri paurosi. Infatti mi ha fatto un long shot, un gol di long shot veramente molto bello, che troverete, penso, nelle clip, se me l'ha registrato il PVR. Ragazzi, provate questo giocatore, non costa praticamente nulla e vi garantisce tanti gol in partita. Mi ha fatto sei gol in cinque partite, quindi questa ne è la prova. Poi per un attaccante esterno direi che è molto molto buono. Peccato che a work rate normale, se avesse work rate alto sarebbe divino. Comunque ragazzi, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace. Tra i cento mi piace uscire a un nuovo video. Vi invito a scrivermi nei commenti se vi piace questo tipo di serie, dove vi consiglio dei giocatori, diciamo, silver, diciamo, a giocatori alternativi. Non so neanche come chiamarli, sinceramente. Fatemi comunque sapere nei commenti. Come fatemi sapere nei commenti giocatori che mi consigliate per questa serie e altre squadre da portarvi su, come squad builder, ovviamente. Iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate sempre in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Bella raga! Ciao! Ciao! Grazie a tutti Grazie a tutti